Abusi, pace e migranti. Il neopresidente della conferenza episcopale italiana, il cardinale Matteo Zuppi, ha indicato in conferenza stampa le direttive del suo mandato. Ascoltiamo il servizio di Marilena Pastore. La Chiesa deve essere compagna di viaggio e deve avere l'atteggiamento di una madre che vuole ripartire dal camminare insieme. Le pandemie, il Covid e la guerra hanno rivelato che siamo fratelli tutti. Questa consapevolezza dobbiamo maturarla e la Chiesa deve trovare risposte alle sofferenze e alle domande di senso. Riparte da qui il cardinale Matteo Zuppi, neopresidente della conferenza episcopale italiana, che nella sua prima conferenza stampa ha tracciato immediatamente le direttrici del suo coinquegno. Lotta agli abusi, pace e migranti. L'arcivescovo di Bologna, invece di presidente della conferenza episcopale, ha riferito dei lavori della 76esima Assemblea Generale e ha risposto alle domande dei giornalisti su guerra in Ucraina, armi nucleari, cammino sinodale e temi etici. Ma soprattutto Zuppi ha affrontato la questione abusi. Il presidente ha spiegato innanzitutto i dettagli del report della Chiesa italiana sulle attività di prevenzione sui casi di abuso segnalati o denunciati, ma anche un'analisi sui dati di delitti presunti o accertati perpetrati dai chierici nel 2000 e il 2021. La pubblicazione è prevista per il prossimo 18 novembre. Nessuna copertura, nessuna resistenza da parte dei vescovi, assicura Zuppi, ci prenderemo le nostre responsabilità. Lo dobbiamo alle vittime, il dolore è la priorità e lo dobbiamo alla Santa Madre Chiesa. Non è mancato nella conferenza stampa un focus sulla guerra in Ucraina. «Innanzitutto Zuppi ha esurtato all'accoglienza dei profughi, un'accoglienza che però duri nel tempo. Molti hanno cercato di tornare in Ucraina, molti rimangono e il loro inserimento è fondamentale. Il coinvolgimento immediato e affettivo per il paese est europeo non deve far dimenticare gli altri pezzi delle altre guerre mondiali», ha affermato il Cardinale. L'Afghanistan, la Libia chiedono risposte. «Non dobbiamo dimenticare i tanti dispersi nel Mediterraneo, la tragedia dei migranti. Qualche volta si spengono i collegamenti». Il presidente dei Vescovi, infine, ha assicurato che la CEI metterà tutto l'impegno possibile perché l'Italia ratifichi il trattato ONU per la messa al bando delle armi nucleari. «Se riparla di guerra nucleare, non dobbiamo abituarci. L'adesione al trattato ONU è importante per non abituarsi a tornare a fare ipotesi che fanno perdere la consapevolezza su cui è nata l'Europa la difesa dei diritti. Allo stesso modo, ha rimarcato Zuppi, non possiamo abituarci alla guerra. È una tragedia, uno scandalo per tutti i cristiani». «Vezie a tutti». «Vezie a tutti».